Giunti alle battute finali di questa campagna elettorale, anche le punture rischiano di infierire oltremodo su chi, come Dorando Pietri, sembra arrivare sfinito a pochi metri dal traguardo. Restando nella metafora sportiva, la camaleontica coalizione di centrosinistra guidata da Roberto Mutalipassi spera di non fare la fine nel Milan nella finale Champions del 2005, quando in vantaggio 3-0 alla fine del primo tempo si fece recuperare in sei minuti nella ripresa per poi perdere ai rigori 5-6. Massimo Laporta sembra aver puntato su una squadra composita e matura, fatta più di vecchie glorie che non di giovani promessi. Un po' come le Inter di Massimo Moratti, spesso stagioni tristi fatte più ad uso e consumo dell'album di figurine della Panini, ma che pure, una volta sottante, portarono nel 2010 allo storico triplete. Elvira Serra invece sembra il Brescia dei gemelli filippini Antonio ed Emanuele, allenati da Carletto Mazzone. Più che la classe di Roby Baggio a fine carriera, si ricorda la corsa incontenibile sotto la curva atalantina del mister Romanaccio. La squadra di Raffaele Pesce ricorda infine la Danimarca del 1992. Giocatori ormai in vacanza furono richiamati dalle ferie per sostituire la Jugoslavia bloccata dalla guerra. Ricordiamo tutti allora quel grande effetto simpatia per un gruppo di ragazzi animati da talento ed entusiasmo, sempre più coscienti, man mano che passavano i giorni e si vincevano le partite, di non trovarsi più lì per caso. Per la cronaca, oggi, 10 giugno, ricorre proprio il trentennale dell'inizio di quelle europeo a tratti surreale. Ormai ci siamo. Domenica si vota. Lunedì. Proveremo a raccontarla.